Buongiorno a Venezia, alla stazione Santa Lucia, di Ecolò, di Oriente Express. Siamo in bordo. Buongiorno a Venezia, buongiorno a Parisi. Il check-in è finito, sono già nel treno, e nel passato alla cabina, ho ricevuto delle informazioni molto interessanti, come... ...dai le anni 30, le vallone sono peinti in blu marino, colori caratteristiche delle vallone. E anche, ogni anno, c'è un bambino, c'è un bambino che era prodotto nel treno, aveva il nome Oriente. E ora, vi ringrazio il mio canale. Buongiorno. Quindi, da le spazio, il fanno, la luce lì, qui... Ah, è solo la luce lì? Sì, lo puoi vedere durante la luce. La luce lì, e la luce lì, e la luce lì, e la luce lì. E la luce lì, e la luce lì. Ok, ma perché sono due tracetti per il fanno? Per il bambino. Ah, ok. Ok, questo è il red light per il bambino. Ah, ok. Ok, puoi aprire la luce con l'angolo. Ok? Ah-ha. La basso, con l'alto in cold water. È non... Oh, my God! ...non drinkable. Mi piace. La bambino è per il bambino. Oh, sorry. La luce è per te, madre. Quindi, non puoi. Un bambino. Un bambino è per il bambino, non drinkable. Ok. E' questo per il bambino. Un bambino è per il bambino. Un bambino è per il bambino. Un, un interiore. Wiecchi, l'altro... Oh, che è questo? Per te, madame? La trusse. Sì. Ehm... E posso Kathy? Sì, ovviamente. Hai già parlato con Demetre sui lunch. Quale tempo hai chiesto? 2 o'clock. Sì, signor Coanim. Mi chiamo Ignazio. I'm Demetre Di. Mi chiesto per te la riservazione di lunch. Per te faremo una tavola in la seconda Anika, La Lique, per il lunch. Siamo iniziando il sito a 2 o'clock. Sì, perfetto. Siamo pronti. Grazie mille. Siamo iniziando a te nel ristorante. La Cote Azur. Grazie. Alla vostra lovely Cote Azur. Sì. E quando hai lavorato con l'Orient Express? Ho iniziato a lavorare nel 2009. Alla vostra giornata. Sì. E quando hai lavorato con 7 anni? Sì. Alla vostra bordo. Sì. È una buona professiona? È una buona professiona del mondo? È una buona professiona del mondo. È una buona professiona del mondo perché ci sono contattati con tutti i nostri clienti. Sì. 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 Sore la città di주세요. Alla vostra piścia già. È un altro carico che è più originale. and it works mostly for the evenings, for the dinner. We are here for dinner in the oriental area. We are here for dinner, we are here for dinner, we are here for dinner, and then we will have the dinner, the wine, the risotto, the planta and the poivrons, the selection of the food, the mousse, the amandes. So, good evening. So, this is our famous cocktail that you can have all in the world of the Orient Express. So, here you have eleven ingredients premixed, and then we top the food with champagne. twelve, it was like the cupid in our famous book of Agatha Christie, where we have twelve cupids and one murdered. So, now I show you how to make it. Yes. So, the color is green, but we have green liquor inside. It's a combination of color. It looks beautiful. Yeah. All right. So, now we top with the champagne. There we go. Again. And our blueberry. Is that the murderer? Yes, murderer. Very, very good. It's Mr. Casset. Mr. Casset? It's very interesting. It's very interesting. This car is since the service of the train and its launch in 1982. The car is more than the Municipal of the Orient Express. It has the number two of Babteb 3674. It's in France. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell us a moment in this event? Yes, it was here in Paris-Est. Yes, sir. It's the final destination of our trip and adventure Orient Express. Yes, sir. To have the first luncheonas, it's great. Il sembra che ora il nostro viaggio si termine già.